Il progetto Agrinet è nato per sensibilizzare i più giovani sul corretto utilizzo delle risorse naturali, sul rispetto dell'ambiente ed un corretto stile alimentare ai blocchi di partenza. È partita infatti in questi giorni la distribuzione degli strumenti didattici messi a disposizione dalla comunità europea, utilizzabili dagli insegnanti e dagli alunni per approfondire i temi proposti dal progetto Seminala PAC, acronimo di politica agricola comunitaria. Dieci temi interessanti che segnano altrettanti obiettivi prioritari dettati dall'Unione Europea. I temi saranno approfonditi da diverse scuole selezionate sull'intero territorio nazionale. Sul nostro territorio saranno coinvolte due pluriclassi della primaria Michele Boeri di Sesta Godano con 25 alunni e una classe quarta e una quinta della scuola primaria Maurizio Caranza di Varese Ligure con 27 alunni, anche se a Varese Ligure saranno tutti gli alunni del plesso scolastico ad essere interessati ai contenuti del progetto. Garantire un reddito equo agli agricoltori è il tema sul quale si misureranno gli studenti producendo al termine del percorso didattico un servizio televisivo che sarà trasmesso su TV2000 nell'ambito delle programmazioni di Agrinet il futuro in campo e su molte altre tv del circuito corallo. Siamo contenti di partecipare perché sul territorio, nel comune di Sesta Godano abbiamo alcuni giovani ex alunni tra l'altro che sono avventurati per così dire nel mondo dell'agricoltura quindi pensiamo di contattarli, di ragionare con loro e ragionare insieme ai bambini su questo progetto. Quanti bambini partecipano a questo progetto? 27, quarta e quinta. Pensate di lavorare sul territorio? Avete già delle idee particolari su come sviluppare il progetto? Idee precise ancora no, però ci rivolgeremo sicuramente a tutte le aziende che fanno parte della nostra valle. Noi siamo nella valle del biologico quindi il materiale sicuramente non ci manca e vedremo adesso di puntare di più sulla zootecnia piuttosto che sull'agricoltura. Vedremo, è ancora tutta una possibilità aperta. Il lavoro sul territorio immagino che sia una vostra caratteristica data la realtà della valle del biologico. Quindi come affrontano i ragazzi e anche gli insegnanti questa nuova sfida? Noi è da tanto tempo che educhiamo i ragazzi alla conoscenza del territorio e quindi non è una novità per noi questi progetti. Questo progetto sarà forse più visibile al pubblico quindi metteremo tanto impegno per questo. Nei prossimi giorni il materiale sarà consegnato anche alla terza scuola coinvolta nel progetto, il complesso scolastico ISA 2 intitolata 2 giugno della Spezia che vedrà impegnate tre quinte classi per un totale di 67 alunni.